E' stato sorpreso al volante con oltre 700 grammi di marijuana nascosta sotto un sedile della propria auto. Per questo è finito in manetti un 25enne di origini calabresi ma da anni residenti in Valdarno, arrestato dalle fiamme gialle della compagnia di San Giovanni Valdarno con l'accusa di detenzione e fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tutto è successo nella tarda notte dello scorso mercoledì quando i militari hanno notato nella zona di Cavriglia un soggetto che alla vista della pattuglia di servizio si è allontanato a tutto gas. I finanziari così poco dopo gli hanno intimato l'alta ma il 25enne ha tentato di investire i militari che sono comunque riusciti a bloccarlo senza rimanere feriti. A seguito della perquisizione dell'autovettura è stato trovato sotto un sedile un involucro con circa 7 etti di marijuana, sottoposti ovviamente a sequestro. Su disposizione del magistrato di turno il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio e resistenza pubblico ufficiale. Adesso si trova nel carcere di Arezzo in attesa del giudizio per direttissima.